L'economia mondiale risente di tre crisi fondamentali, quella ambientale, quella sociale, quella economica e oggettivamente come si affronta questa crisi? Sono necessari metodi nuovi, consumare fino all'inverosimile non serve, riusare invece significa conservare le risorse e poter salvare il pianeta. Rispetto alle crisi ambientali l'inquinamento certamente distrugge, incidere sui rifiuti è fondamentale, lo dobbiamo fare attraverso una politica che sostenga gli enti locali, che li aiuti soprattutto enti locali e regioni a fare una buona comunicazione con i cittadini perché si tratta di una svolta culturale. Pensate all'abbigliamento, solo 30 anni fa l'abbigliamento che ciascuno di noi usava era molto più ridotto nei numeri di oggi, oggi sono tantissimi gli abiti e dove vengono smaltiti, come vengono smaltiti, chi riusa oggi? Ecco perché è importante che ci sia questa svolta culturale, la dobbiamo fare attraverso risorse finanziarie, attraverso una capacità delle istituzioni di coinvolgere i cittadini, attraverso una consapevolezza che l'ambiente che abbiamo adesso non si mantiene inalterato per sempre, ma anzi è destinato a peggiorare con l'azione dell'uomo e delle donne laddove non si possa effettivamente intervenire con una nuova politica di riduzione, riciclo, riuso e con una politica che serva proprio a testimoniare l'importanza delle materie prime e non necessariamente la considerazione loro come rifiuto per l'uso di una sola volta.